benvenuti da mister gadget e tecnolaura stiamo provando la tastiera mx keys mini di logitech un formato più piccolo e leggero ma con tasti sempre più intelligenti quando diciamo formato più piccolo ci riferiamo al fatto che esistano delle versioni di mx keys di logitech più grandi che sono più adatte all'uso in ufficio oppure dentro casa mx keys mini funziona con tutti i sistemi operativi anche quelli degli smartphone e si può collegare alla smart tv abbiamo provato quella ottimizzata per l'ecosistema di apple i cui tasti sono configurati come quelli dei computer mac in realtà mx keys mini di logitech si adatta molto semplicemente ai diversi sistemi operativi e si passa da ipad ad iphone ad un computer piuttosto che ad un prodotto mac semplicemente con la pressione di un tasto sfruttando l'opzione che viene chiamata easy switch grazie al controllo flow è possibile collegare tre dispositivi contemporaneamente sfruttando la connessione via bluetooth un dispositivo smart particolarmente adatto per i creator e per chi vuole viaggiare il peso è di soli 506 grammi senza perdere in autonomia funzionalità e robustezza una cosa molto importante che ho notato durante la nostra prova è che la tastiera rimane ben salda sul piano grazie al rialzo permette anche di avere una posizione corretta quando si scrive questo è davvero fondamentale per mantenere una propria postura adeguata quando si lavora una tastiera che si sposta in continuazione che non rimane ben salda sul piano induce a raggiungere una postura sbagliata e a mantenerla nel tempo e questo può essere particolarmente dannoso quello della postura è un tema che ci è molto caro con keyboard mx keys mini non si rinuncia all'ergonomia fattore importantissimo visto il tempo che passiamo al pc il formato è stato pensato per facilitare l'allineamento delle spalle mantenendo quindi una posizione corretta consente di posizionare il mouse più vicino diminuendo i movimenti di estensione della mano che possono causare problemi alla schiena a proposito di postura sapevate che utilizzando la palla svizzera avrete la postura adeguata e corretta in modo più naturale ed automatico quando infatti si rimane seduti su questo pratico accessorio la ricerca dell'equilibrio impone di trovare la corretta postura e non solo perché permette di fare un esercizio anche ai muscoli della schiena senza quasi accorgersene bene tornerei alla nostra keyboard il layout è minimal quello che conosciamo su mac in più sono presenti dei tasti che rendono la tastiera più smart tasto dettatura premendolo si attiva la modalità voice to text in qualsiasi campo di testo selezionato modalità particolarmente adatta a quei momenti in cui vogliamo riposare le dita senza perdere tempo prezioso è importante sottolineare che questo tasto funziona sia con i computer mac che con ipad e iphone tasto di attivazione e disattivazione audio ormai viviamo ogni giorno tra chiamate video call con questo tasto disattiviamo e attiviamo il microfono con un semplice click davvero molto comodo tasto emoji emoji insomma faccine questa simpatica funzione ci permette di inviare cuori risate e faccine sorridenti in pochi secondi si apre istantaneamente la finestra dock si tratta di un'operazione tendenzialmente molto scomoda e macchinosa con le classiche keyboard ormai sono un linguaggio universale usate nella comunicazione di tutti i giorni in perfetto stile millennials e gen z come avrete capito i dettagli da raccontare di questa tastiera mx keys mini sono davvero tantissimi così tanti che non ci basta lo spazio di un video per farlo ci vediamo nei prossimi giorni per un ulteriore approfondimento dedicato a questo prodotto beh allora per oggi abbiamo completato andiamo a proseguire il nostro test da luca viscardi e da tecno laura a prestissimo